Bentornati sul canale sono italiano. Oggi con le ultime notizie come Con il caldo e le alte temperature anche il palato esige piatti gustosi e freschi. Cosa c'è di meglio allora degli spaghetti con le cozze? Lo chef partenopeo, Antonino Cannavacciuolo ha svelato i suoi segreti per ottenere un piatto stellare. Spaghetti alle cozze, non fare questi errori, parola di Antonino Cannavacciuolo. La tradizione culinaria italiana è ricchissima di piatti gustosi e salutari. Non è un caso se in tutto il mondo siamo conosciuti per essere dei patiti della buona cucina. I prodotti lavorati con cura e dedizione consentono di ottenere delle pietanze celestiali, se poi ai fornelli si nasconde uno chef dal calibro di Antonino Cannavacciuolo, il gioco è fatto. Antonino è uno degli chef italiani più apprezzati al mondo. La sua è una cucina innovativa che si basa sulla mescolanza di sapori tradizionali a quelli più ricercati e dall'avanguardia. Amatissimo anche per la sua simpatia, lo chef napoletano ha seguaci in tutto il mondo che si rifanno alle sue ricette. I segreti di Antonino Cannavacciuolo per un piatto da leccarsi i baffi. Di recente ha voluto condividere con i suoi milioni di fan i segreti per cucinare degli spaghetti alle cozze da leccarsi i baffi. Da buon napoletano ha svelato i passi per poter gustare una pietanza ricca e succosa. Per prima cosa si parte dalla pulizia delle cozze. Primo consiglio. Non aggiungete acqua alle cozze, riponetele in una casseruola ampia e lasciate soffriggere l'aglio con olio ed il prezzemolo, solo dopo aggiungete le cozze. Non lasciatele cuocere a lungo, perché potreste ottenere il tanto odiato, effetto gomma. Poi passate agli spaghetti, fate attenzione a rispettare il tempo di cottura indicato, toglieteli quando sono ancora al dente e lasciateli saltare per qualche minuto nella padella con il sugo delle cozze. Il risultato sarà eccezionale. Un sapore unico nel suo genere, ricco e corposo come la tradizione insegna. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.